Nonostante le promesse del governo la situazione non cambia e nelle ultime ore, anzi negli ultimi giorni, continuano incessantemente gli sbarchi sulle nostre coste. È una situazione che rischia di andare al collasso nelle prossime settimane? La situazione è cambiata, è peggiorata pesantemente perché continua questo atteggiamento ipocrita di buonismo, andiamoli a prendere tutti per lavarsi le coscienze, salvandone forse qualche centinaio di gente che comunque non dimentichiamo sa di entrare in legamento in un paese, sa di affidarsi alla criminalità organizzata, spesso e volentieri con la mafia dietro, sa di violare delle leggi che in tutti gli altri paesi invece vengono fatte rispettare. Solo in questo paese le leggi non vengono fatte rispettare se non contro chi questo paese in qualche modo l'ha sostenuto, anche finanziariamente con le proprietà se fino adesso, cioè contro il nord. È una situazione drammatica ed esplosiva. Lei è andato in Europa a parlare della situazione, l'Europa ha provato a dare qualche risposta, lei cosa ne pensa? L'Europa lo ha preso letteralmente per i fondelli perché innanzitutto è venuto a dirci in aula che nell'agenda del Consiglio europeo della settimana scorsa l'immigrazione era il tema centrale, era nelle varie eventuali, questo lo si può evincere anche dall'ordine del giorno del Consiglio europeo scaricabile su qualsiasi sito internet. L'Europa ha sostanzialmente risposto sì, è un tema che deve interessare tutta l'Europa ma poi ci guarderemo più avanti, quindi un ennesimo rinvio nella speranza che con l'inverno, con le condizioni atmosferiche avverse, calino questi sbarchi, quindi cali in qualche modo anche l'attenzione eletta, sa benissimo che l'Europa di questa situazione se ne frega altamente, però continua a raccontare come su tutti gli altri temi delle balle. Ci auguriamo sinceramente che cambi qualcosa a livello di equilibri politici a breve e che se ci deve essere un governo che porti a elezioni nel più breve tempo possibile per ridare la voce ai cittadini, sia un governo che guardi più agli interessi dei padani, per quello che ci riguarda degli italiani in generale e meno agli interessi come in questo caso qui delle mafie che sfruttano il traffico di clandestini perché di questo si tratta.